È vero che l'anno 2012-2013 per me è buona, il mio piccolo viaggio a Parigi è stato molto bello perché vedere il presidente della Repribica e ritrovare anche tutte le mie compagne di squadra è stato molto bello, di più come io ho deciso di smettere di giocare in nazionale era un po' un agio per me con la squadra, è stato bello. E adesso allora ti dai anima e cuore a questa squadra bianco-arancione, contenta della qualificazione alla Final 8, la volevi molto? Certo, come l'ho già detto prima mi mancava solo questo e adesso sono molto contenta di fare questo Final 8 con questo gruppo speriamo di fare qualcosa di bello. Adesso però c'è la semifinale e speriamo la finale di Coppa Italia. Sì, questo mese di marzo è molto complicato perché abbiamo tante partite, è importante c'è già sabato e domenica, dobbiamo già giocare contro Umberti di questo semifinale che non sarà facile perché è una partita secca e sì, questo mese è molto impegnato però facciamo tutta la stagione per arrivare a questo punto, allora è bello. Sai che la società ci tiene molto anche la Coppa Italia? Sì, ma la Coppa c'è tutto, comunque lo sappiamo già che c'è la Coppia, il campionato e l'orolega che sono tre obiettivi della squadra e la Coppa è il primo che possiamo, spero, avere questo weekend. Grazie. 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 Grazie.